Signore, adesso cominciamo a fare i 15 minuti di meditazione che ha chiesto la Madonna. Allora, è bello fare attenzione che in questo suo pedito, questa sua richiesta, la Madonna ha detto di farmi compagnia. Allora, si potrebbe pensare, Signore, Madre mia, che voi, essendo come è in corpo e anima nel cielo, potremmo pensare, possiamo pensare, ma la Madonna c'è compagnia più bella che io. Perché lei vuole questo? Perché lei ha bisogno di queste riparazioni della mia parte? Madre mia, oggi meditiamo il quinto mistero gozoso, l'ismarrimento e il ritrovamento del bambino Gesù nel Tempio. Allora, mamma mia, per avere questo rapporto con te, questo convivio sacrale, che cosa dire, che cosa pensare? Alla fine del Vangelo che narra questo brano del Vangelo, si dice che il Gesù cresceva in grazia e saggezza. Allora, Dio cresce in saggezza? Ma come è questo? Ti insegna San Tommaso, Signora mia, che Dio ha quattro tipi di conoscenza. La prima, essendo Lui, che è qui presente tra noi, nel Santissimo Sacramento, la conoscenza in quanto terza persona, seconda persona della Santissima Trinità. Un conoscimento pleno. Dopo la conoscenza che Lui c'è nella visione beatifica, creata da Lui stesso per la nostra gioia. Dopo la conoscenza della scienza infusa. Questo, faccio riferimento a Gesù, Dio e l'uomo. La scienza infusa. Conosceva tutto, da bambino, da quando è nato, da quando è concepito. Però, il quarto tipo di conoscimento che voi avete, Signore, è quello dell'esperimento, è in quanto persona. Per esempio, la prima volta che hai guardato lo sguardo della Madonna nel suo nascimento. Conoscevi la Madonna, però, questi tuoi occhi piccolissimi non l'avevi ancora visto. Bene. È saputo che i giudei, che vivevano lontani, hasta il punto di 25 km di Gerusalemme, avevano l'obbligo di andare una volta all'anno al Tempio. Però, voi, Signore, Signora mia, la vostra abitazione era più lontana. Ma anche così, volevi fare questo compimento della legge. E anche tu, Signore, hai detto che non sei venuto per istinguere la legge, però, per compierla nella sua plenitudine. Allora, Signore, voi, con questo tipo di conoscenza, aveva questo rapporto con la Madonna. Lei ci insegnava, ha insegnato anche a parlare. E in questo rapporto di dire una cosa o un'altra, voi lo avete fatto in un momento di grande opportunità, quando avete fatto questo transloco fino a Gerusalemme per andare al Tempio. In questa meditazione, Signore, anche voi, la Madonna, richiede a noi questa compagnia. Diciamo che il nostro pensiero può volare molto volentieri, ossia, in modo semplice, anche molto familiare. che cosa possiamo pensare che voi dicevi alla vostra mamma nel cammino? Tre giorni di viaggio, non è poco. Tante volte la Madonna diceva a voi, guarda, figlio mio, guarda quello. Poi lo guardavi, analizzavi quello che era oggetto di quello che la Madonna ti ha preso l'attenzione, e dopo diceva, che bello, mamma, ma lei sa che questo c'è un rapporto con questo e quell'altro, ossia questo convivio molto familiare in cui voi avete anche mostrato che vuole avere anche con noi questo rapporto, Signore. Magari qualcuno di noi ha questo volo di l'acquilla verso di te, sempre a stare nella ponte dei piedi per contemplare i vostri i vostri misteri, però non è sempre così, Signore. Allora chiediamo qui di avere sempre più o meno il cuore rivolto a te, i sensibili alle tue parole. Possiamo parlare, dobbiamo ascoltare e avere questo rapporto con te. Allora voi, Signore, arrivando a Jerusalemi in questa tua conoscenza avete contemplato quello che era solamente un simbolo di te stesso, Signore. Il Tempio di Jerusalemi, la casa del tuo padre, che è una casa di preghiera e che dopo sei stata convertita se non già da adesso in una casa di ladri come voi più tardi avrà detto nel tuo Vangelo. Signore, lì, voi avete desiderato pregare e fare quello che abbiamo, stiamo facendo oggi, un atto di riparazione. Voi, Signore, conoscevi bene qual era la situazione nel vostro tempo e nel vostro Tempio. La decadenza dei religiosi, dei farisei, di quello che dovevano insegnare e non solamente restringere le persone a fare quello che era per il proprio bene, ossia il bene di loro. Ma, Signore, voi arrivando lì con la Madonna, con la vostra madre, voi eravate incantati perché quello era un atto di onore al vostro padre, a voi e allo Spirito Santo. E siete lì a pregare, a pregare insieme alla vostra madre, a guardare il cerimoniale ispirato anche da voi. Per esempio, siete avvicinati alla Santa Sanctora. Ponevano lì un agnello maschio, bello, e lo hanno immolato. Voi avete visto il sangue scorrere dall'altare? In quello avete capito, Signore, che quello era solamente un simbolo di quello che sarebbe stato voi stesso. Però, voi siete la plenitudine delle immolazioni, siete il sacrificio perfetto. Voi siete stati allo stesso tempo il sacerdote e la vittima. Quello era solamente un singolo. Però, ha comosto il vostro cuore, Signore. In tutto questo, Signore, voi avevi spiegato alla vostra mamma, anche al vostro padre, San Giuseppe, che è stato qui presente, io dicendo a loro tutti i simboli di quello cerimoniale, il rapporto che aveva con te, Signore. Però, siete stati lì per sette giorni. È arrivato il momento di tornare a casa. Quello che tornavano a casa erano divisi tra gli uomini e le donne. Voi siete tornati con la vostra mamma, con la Santissima Verde. A certo punto, voi chiedete a vostra madre, Maria Santissima, mamma, posso dare un po' insieme a Giacomo? Era il suo cugino. Sì, va, figlio mio. Va. Non poteva negare perché erano insieme. Gesù ha parlato un po' con Giacomo, che dopo è stato uno degli apostoli, e si è distaccato dall'insieme delle persone. Tutti si sono allontanati e voi siete rimasti a Gerusalemme. Tante persone dicono che in questi misteri è lo smarrimento, però non è stato un smarrimento, Signore, perché la Madonna non pensava che avete perso a voi, però ha permesso di allontanarsi con il suo cugino e voi avete fatto apposta. Era il vostro desiderio. Signore, siete stati tre giorni lontani dai vostri genitori, Maria e Giuseppe. Cosa avete fatto? Siete andati direttamente al Tempio? No. Si dice che voi, Signore, avete fatto la prima via sacra della storia senza anche aver stata fatta questa. Siete andati a ogni luogo dove avete sofferto. Arrivando al Calvario vi siete inginocchiati nella sabbia, avete posto le mani sulla faccia e avete pianto, Signore, avete pianto vendendo tutto quello che sarebbe stato fatto e a ogni momento avete dato il vostro sì, io voglio. Signore, dopo di questo siete tornati oppure siete andati al Tempio. Nel Tempio di modo molto discreto siete stati a un angolo e ho cominciato a parlare con qualcuno, facendo una domanda o un'altra. In pochissimi tempi tutti i suoi sono stupiti di quello che diceva voi, Signore, un bambino di 12 anni con quella saggezza, con quella disinvoltura, parlando così non avevano mai visto. Però c'era nel Tempio quelli che comandavano lì che volevano controllare tutto, sorvegliare tutto e qualcuna cosa che potesse essere di una specie di lideranza loro volevano avere il controllo di quello. Allora, Signore, hanno inviato due vecchi farisei esperienti per vederti. A un certo punto sono adentrati in quello vostro dialogo, hanno fatto una domanda e voi giustamente avete dato una risposta che ha zitto ambiduri. In pochissimi tempo tutti erano stupiti di quel dialogo. Mamma mia, cosa succede qua? Però i farisei, vedendo che sarebbero stati mali in quella conversazione, hanno invitato Gesù ad adentrare più dentro nel Tempio per parlare con gli altri dottori. Era quello che voi desiderate, Signore. Essendo lì, desiderando già cominciare la vostra attuazione per la salvezza dell'umanità, avete cominciato a indagare, a fare delle domande, a rispondere e ha anche portato quell'insegnamento di Ezechiele dove dice voi dovevi pascolare le vostre gregi però non lo fate. Non mi ricordo bene, Signore, delle parole però solamente mangiate del latte eccetera vi approfittate lo lasciate al guai per i luci avete increpato quegli sacerdoti, Signore. però a questo punto la vostra mamma è andata avanti nel suo ritornare a casa però arriva la notte e tutti si uniscono per stare insieme nella notte anche per sicurezza, Signore. Voi ritrovate, voi madri mie trovate il vostro esposo, castissimo esposo San Giuseppe e domandate dove è Gesù? Non lo so, non è con te? No, a quel punto si accorge che è sparito il bambino. Lo cercano tra i parenti ma niente. La Madonna si ricorda di quelle parole di Signore una spada ti trasfiggerà il cuore. Lì, Signora, avete ricevuto la prima spada nel vostro cuore. afflittissima, molto preoccupata, San Giuseppe sempre con quella fiducia che è proprio caratteristica di lui la tranquillizza e con quella sua sicurezza dice non possiamo tornare adesso. Dopo, nella mattina torniamo a Gerusalemme. San Giuseppe già sapeva lui è in Gerusalemme perché vedeva nello sguardo di Gesù che brillava in tutta quella cerimonia in tutto quello che voleva compiere la sua missione. Allora, Signori, loro sono tornati arrivano a Gerusalemme però anche già era notte riposano e nell'altra mattina tornano vanno al Tempio per trovare Gesù. Appena adentrate nella porta sentono tutti a commentare un bambino che ha detto questo, quello, avete visto? Era l'assunto del momento. Lo cercate nel Tempio e non lo trovate. Domandate qualcuno e loro dicono no, gli iscrivi lo hanno portato da quella parte. la Madonna conosceva perché ha vissuto lì per tantissimi anni. Arrivano più vicino e sentono la voce del suo figlio e Gesù è qui. Arrivano presto, apri la porta e vedono Gesù seduto, circondato dai farisei, tantissimi, tutti interessati, guardando con gli occhi apertissimi, con la saggezza, tutti stupiti, però loro già avevano calcolato. Ma guarda questo bambino è 12 anni. Ma in quale data sono arrivati i magi qua a Gerusalemme e la uccisione dei bambini innocenti a Bethlehem? Non sarebbe scappato questo bambino? Pensavamo che era morto. Magari a lui. E quel giorno nel Tempio che Simeone ha profetizzato, eccetera, penso che sia questo bambino. E già lì vedevano che potrebbe essere un profeta. Però San Giuseppe adentra in modo forte, perché in un solo sguardo aveva capito quello che volevano i farisei. Controllare quel bambino e analizzarlo e qualcuno già aveva in quella sua capacità di cattiveria desiderato la sua morte. Allora, Signore, il tuo padre arriva e disperde tutti quelli. Tutti già capiscono, sanno chi è Giuseppe, sapevano chi era la Madonna perché la conoscevano dal Tempio. Loro sapevano che San Giuseppe era di nobiltà della certe di Davide, ossia già hanno catalogato quel bambino. Ah, adesso sappiamo quello che è. Però quello si disperde. La Madonna piena di afflizione però già molto meno. Domanda a voi, Signore, figlio mio, il tuo papà e io eravamo preoccupati, perché avete fatto questo con noi? La Madonna pensava che per qualcuna infidelità, qualcuna imperfezione, magari non lo aveva amato come doveva, non lo aveva adorato come doveva e lui ci ha lasciato. Figlio mio, perché ha fatto questo con noi? Donna, non sapete che devo fare le cose del mio padre? La Madonna non l'ha capito. però quelli che erano intorno avevano capito. Lì, voi, Signore, avete proclamato la vostra divinità. E oggi qua, Signore, inginocchiati diante di voi, richiediamo che questa meditazione sirva per riparare tutti i peccati commessi contro di te. da parte di quelli che dovevano essere più perfetti insieme a te, Signore, dei sacerdoti, però, come no, per riparazioni anche dei miei peccati. si è lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Madonna del Santissimo Sacramento. Accomodatevi. Il Vangelo di oggi fa riferimento a qualcosa dentro della storia della Chiesa, principalmente nel XVI secolo con il Protestantismo, che è una cosa che proprio l'odiano, che cos'è? La nozione della primazia di San Pietro su tutti gli altri apostoli. Si ricordano la seconda lettura, la lettura di San Paolo? È interessante vedere che San Paolo racconta un po' la sua storia e come diceva Santa Teresa, la grande che diceva così, Santa Teresa d'Avila, lei diceva così che l'umiltà è la verità, no? Ma perché sia l'umiltà deve essere verità e deve anche essere vero quello che tu consideri come umiltà, no? È importante. Se un Paolo dice, ho faticato, ho fatto di più che tutti gli altri, è vero, questo può dire per umiltà, lui dice che ha fatto più che tutti gli altri, ma al stesso momento dice, io non posso essere considerato un apostolo perché ho perseguitato la Chiesa. Ma quando si dice l'apostolo, si parla di San Paolo. Ma pur avendo fatto di più, qui non è il dibattito quel più santo, quello che ha il potere, ma il dibattito che cos'è? Quello che Gesù ha scelto. E tante volte quando per esempio Gesù sceglie una persona per compiere una missione, pensiamo, ma io sono deboli, io non ho capacità per questo, per questo che ti ho scelto. Una volta, una beata, oggi beata, ma in quell'epoca il Sacro Cuore di Gesù è andato in un convento e ha scelto proprio beata Josefa Menendez, che proprio il Sacro Cuore di Gesù ha parlato tanto dell'amore con lei che fosse il testo più bello sull'amore di Gesù per ognuno di noi si trova in questo. E lei era proprio, non era una suora facile, possiamo dire così, e lei ha detto così, ma Gesù, perché tu non hai scelto, diciamo, un'altra suora? Perché, ma perché hai scelto me? Non perché era tanta fatica, no? Che ha sentito, e lei ha detto, perché non ho trovato nessuna peggio che te. Non ho trovato nessuna, per guardare che almeno tu sei la prima in, diciamo, in difficoltà, no? E Gesù, sincero, è scelto perché era peggio, no? Così tante volte ognuno di noi. E che succede? Qui, San Pietro, San Pietro Gesù è scelto, perché rappresenta quel momento lì, nel lago di Genezareth, che pensiamo che sia proprio una cosa grandiosa. È bello, perché Gesù è andato lì, ma sono, questo mare, della Galilea, erano 12 chilometri, così, per 23. Diciamo, il nostro lago di, qual è il più grande qui in Italia? è dimenticato, sfuggito, il lago di Garda, è proprio tante volte più grande che il lago di Genezareth, proprio il lago di Garda, in chilometri. È due volte più grande che tutto il lago di Genezareth, soltanto per capire. Gesù è lì, e la quantità di persone che erano vicino a Gesù era così grande che Gesù ha chiesto che si mettessero una barca di piedi, un'altra barca vicino e è diventato come un affiteatro, perché il mare, la sabbia, viene così, Gesù ha pregato e quando era finita la sua pregazione, che cosa Gesù dice così? Dice Salì una barca che era di Simone e lo pregò di accostarsi un po' da terra, sedete e gli insinava alle fori della barca, come era immaginato Gesù, quando era finita la barca sedendo la sua pregazione, quando era finita la barca che era di Simone, e quando era si era di Simone e si era di un affiteatro, per il nome di Genezareth, una ducca in alto, che si dice tante volte la Ciccossia, vada al posto più aperto, e così è il desiderio invito di Gesù tante volte di aprire l'orizzonte di ognuno di noi per quella realtà così grande, perché che cosa era Pietro? Un pescatore. Che cosa pensa un pescatore? In pesce. Niente di più. Pensa in pesce, in pescare pesce, vendere pesce, mangiare pesce, tutto il giorno pesce. Piscino l'anno alla fine, perché proprio quel posto in questa piazza, qui piazza in piscina, perché si vendeva pesce. e dice, e San Pietro dice, Gesù dice, prendi largo e gettate la vostra erede per la pesca. Interessante perché Gesù può capire tutto. San Pietro sapeva che Gesù era un profeta, parlava bene, conosceva tanto la Bibbia, ma dice, pescare con me. Scusa, ma ogni volta quando la persona ha fatto qualcosa di tutta la vita, io ho visto succedere questo, tu vai a una panateria, cerca di fare questo, chiama il capo della panateria, il capo della panateria dice, il tuo pane non va bene, tu devi adesso alzare la temperatura del forno, cerca di fare questo, insegnare quello che fa pane a 50 anni, come si fa un pane. Un'altra volta ho visto qui, non con me, una persona che è venuto un prete qui e la persona ha cercato di insegnare ai prete qualcosa che era proprio del suo mistiere. Per questo che dici, non so se esiste questo proverbio in Italia, tu vai ad insegnare il padre nostro al vicario, no? Non esiste. La persona va a dire che tu stai cercando di... Tu vai ad insegnare il padre nostro al vicario, che almeno il padre nostro, oggi, non siamo, ma deve sapere, no? i bene e Gesù c'è qualche cosa insegnare Pietro qualche cosa che sta ma è interessante vedere come San Pietro era, diciamo, pieno del... Simone rispose maestro interessante perché ha cominciato chiamando maestro non ha detto maestro soltanto nella teologia nella Bibbia maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla presentato come introduzione la frase ma dice ma sulla tua parola getterò le reti io essendo pensato i pesci sono forse a luna nuovo non so come si dice fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano è interessante vedere perché questa è la prima pesca miracolosa sono due si devono ricordare questa dopo la risurrezione Pietro ritorna a pescare pescatori di uomini dopo la morte di Gesù loro erano proprio giù no? non credevano più erano tristi e che cosa ha fatto a ritornare il suo mestiere e un'altra volta che cosa Gesù appare tu hai ritornato Pietro una volta se io ricordo questo fatto era una persona che era uno religioso era un figlio di pescatori no? era un figlio di portugese di una isola proprio nell'Atlantico 800 km nell'Atlantico l'Iglia della Madeira no? un'isola abbastanza conosciuta ma in tutta la sua vita è stato pescatore e dopo è diventato religioso e che è successo? ma era ma sempre il desiderio di pescare ma lui era proprio diciamo una vocazione diciamo era diciamo è stato piano piano abbandonando la vocazione hai ricordo la persona che era raccontato il fatto che lui faceva un viaggio di aereo ma gli portava quella rete quella pesante che sono piena di piombo che si portava così e alla fine hanno domandato dove è il tuo abito? e gli ha detto eh non ho potuto portare nell'aereo perché era pesante no? perché era tante cose ma ha portato la rete che pesava 14 kg e gli ha detto sì tu hai cominciato come pescatore di pesce no San Pietro è cominciato come pescatore di pesce e è diventato pescatore di uomini tu hai cominciato come pescatore di uomini e adesso vuoi ritornare a essere pescatore di pesce che fa questo come oggi proprio vende i pesci è triste non vedere questo vedendo che San Pietro ritornava quel momento di San Pietro Gesù dice così allora fecero ceno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli perché sì la barca di Pietro non è sufficiente per contenere tutti i pesci e si vennero tutte le barche fino a farle quasi affondare ossia una barca rappresenta il popolo ebreu l'altra barca rappresenta proprio il popolo il gentio non il popolo le genti e dice al vedere questo e guarda dovremmo diciamo come faceva Sant'Ignace che deve immaginare e vedere la cena le dici Simon Pietro si gettò alla ginocchia di Gesù immaginate che siamo in una barca una barca più grande che questa qui no e Gesù è qui diciamo che Gesù è qui che cosa San Pietro fa viene vicino a Gesù perché sono un peccatore cioè si avvicina e pede che Gesù vada perché fare l'opposto perché se tu sei peccato è peccato perché dar un passo indietro una levata vicino amare se tu sei peccato va indietro essere Gesù portare portare il peccato essere peccato noi sono uomini infatti avevano fatto lui e non lui e la testa che avevano fatto finiamo ricordando questo tante volte Gesù siamo qui diverse persone alcune hanno lavorato tutta la vita non so in ufficio un altro diciamo in un'azienda pensa questo io so fare è una donna per esempio che cucina sa fare un ciambello qualcosa di bello sa fare qualche gioiello tante altre cose ma Gesù tante volte cerca di fare di fare che tu non riesci a fare quello che tu pensa che fa per dire io devo fare una cosa più alta più bella così chiediamo a Gesù in questo momento di essere come San Pietro quando davanti a qualche difficoltà ma se Gesù chiede a uno di noi che faccia tale cosa dovremmo avere questa fede così grande dire maestro l'acqua diciamo che abbiamo cercato di pescare non abbiamo preso niente ma vado che cosa seguire la tua parola sia lodato Gesù Cristo grazie 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 grazie